Racconta la storia di suo padre e la figlia di Francesco Mazzone, militare originario di Siracusa, si rifiutò di combattere dopo la nascita della Repubblica di Salò. Internato in un campo polacco, fu vittima di umiliazioni, vessazioni, patì la fame per quasi due anni. Stamattina a cerimonia in prefettura. Era stato internato con altri ufficiali e sotto ufficiali nel campo Stalag di Deblingirena, a nord e ovest di Versavia. Lì ha patito come questi 600.000 italiani che sono stati per tanti anni trascurati sia dallo Stato che dalla storia. Cinzia Mazzone racconta le vessazioni, umiliazioni e la fame subiti da suo padre Francesco, sottotenente dell'undicesimo reggimento Bersaglieri, internato militare italiano in uno Stalag in Polonia. Un campo per prigionieri di guerra, perché nei lager nazisti non furono rinchiusi soltanto gli ebrei. Divenne un numero di matricola, 23 867, privato della dignità. Sostituivano i militari tedeschi al fronte e quindi dovevano essere costretti a lavorare 10-12 ore al giorno. Rimase internato quasi due anni prima di essere liberato. Facevano anche i becchini, trasportavano i cadaveri di quelli che non ce l'avevano fatta, perché comunque le condizioni di fame, di freddo, di privazioni, mancanza anche di medicinali, li riduceva all'osso. Quindi anche papà è dimagrito di una trentina di chili. La figlia Cinzia, che ha vissuto a Torino ma da qualche anno si è trasferita a Siracusa, città di origine del padre, ha fatto ricerche per ricostruire il passato. Gli racconti di mio papà erano un po' frammentari, non è che ne volesse parlare più di tanto. Nella giornata della memoria è stata consegnata una medaglia d'onore all'Istituto Comprensivo Archimede. Queste storie hanno faticato ad emergere rispetto a quella tragica dell'orrore della Shoah. Ed è anche un momento di riconoscenza dello Stato italiano per avere contribuito in maniera così dolorosa a costruire la nostra democrazia e la libertà individuale e collettiva. Siamo andati nelle scuole...